Allora, grande successo di questa iniziativa di Wired in Puglia, in particolare a Bari, bellissimo il nuovo teatro Margherita che avevamo immaginato dieci anni fa quando io ero ancora sindaco di Bari, davvero una grande emozione parlare con straordinarie personalità dell'innovazione, delle possibilità di futuro e devo dire che l'interesse che Wired continua ad avere nei confronti della Puglia e la misura della nostra capacità di innovazione. Oggi uno dei manager più importanti della Virgin Galactic è stato qui, per fare un esempio ovviamente, ha parlato dello spazio porto europeo di Grottaglie, l'unico spazio porto di tutta l'Europa, della sua intenzione di dar vita con rapidità sia ai voli turistici suborbitali, sia soprattutto al lancio dei microsatelliti prodotti in Puglia, secondo l'accordo che abbiamo firmato presso l'ambasciata italiana a Washington e questo evidentemente dà la misura delle nostre ambizioni. È ovvio che a tutto questo poi deve corrispondere, fare bene, anzi benissimo, tutte le cose ordinarie, non solo quelle straordinarie. Questo è un compito sempre molto complicato nel nostro Paese.